cari amici bentrovati a questa nuova video lezione che voglio dedicare al personaggio di questa statua la foto l'ho fatta poche settimane fa durante uno dei miei giretti in moto in abruzzo una regione che amo tantissimo e passando dall'aquila ho fatto un salutino a gaio crispo sallustio a cui la città ha eretto questo monumento perché nacque proprio da quelle parti ad amiternum antichissima città italica fondata dai sabini che si trova a circa 11 chilometri a nord dell'aquila autore di due famosissime monografie decatilina coniurazione e bellum iugurtinum nei primi capitoli delle quali ha esposto a modiproemio fondamentali considerazioni sullo scrivere storia sul ruolo dello storiografo e sulla temperie politica del suo tempo ed è di tutto questo che vi voglio parlare oggi abbiamo parlato di storia ma quale storia beh quella a lui contemporanea 86 35 questo l'arco della vita di sallustio un'esistenza trascorsa sullo sfondo di una sequela di avvenimenti tragici la lotta fra mariani e sillani la dittatura di silla e le liste di proscrizione la guerra sociale la rivolta di spartaco e degli schiani la guerra fratricida tra cesare e pompeo le idi di marzo del 44 e alla fine già si profilava all'orizzonte una nuova guerra civile quella tra antonio e ottaviano insomma una vita vissuta in un'epoca tempestosa e feroce dovete tenere ben presente questo sfondo storico per capire l'opera di sallustio e anche quella sua inconfondibile patina di disillusione e disincanto che conosciamo come pessimismo sallustiano nato da un'agiata famiglia plebea era insomma un benestante provinciale tant'è che poteva permettersi di studiare e poi di recarsi a roma per intraprendere il cursus honorum ma era homo novus e aveva quindi bisogno di qualcuno che lo sponsorizzasse e prendesse sotto la sua ala il qualcuno fu proprio cesare e da quel momento sallustio divenne cesariano di ferro non pensiamo però che cesare sia stato per sallustio soltanto una ghiotta opportunità di far carriera lo storico gli fu sinceramente legato da stima e amicizia anche perché vedeva in lui un ideale il riformatore della crisi dei valori e del malcostume imperante tra poco vedremo cosa intendeva sallustio per crisi dei valori e soprattutto il democratico ma non rivoluzionario così sempre al fianco l'uno dell'altro è però in dubbio che entrambi trassero vantaggio da questa alleanza quando nel 52 publio clodio il demagogo di parte cesariana fu ucciso dalle bande di milone sallustio era tribuno della plebe e riuscì a far condannare l'assassino e sapete chi era il suo avvocato difensore cicerone che subì questo smacco nonostante la sua bella arringa difensiva ma cesare ebbe presto modo di ricambiare il favore sempre a proposito di milone pare che sallustio se la facesse con la di lui moglie e così nel 50 fu espulso dal senato probri causa ora non sappiamo se si sia trattata di una macchinazione orchestrata ai suoi danni dalla parte pompeiana e dall'ogligarchia senatoria sta di fatto che cesare riuscì ad intervenire facendolo reintegrare nel senato due anni dopo e due anni ancora dopo sallustio ottenne la presenza intanto era iniziata la guerra civile tra cesare e pompeo sallustio sempre a fianco del suo amico protettore svolse anche operazioni belliche a comando di un esercito cesariano tra cui una fortunata spedizione in africa nel 46 per ricompensarlo cesare lo fa primo governatore della provincia africa nova l'ex regno di numidia lo sfondo geografico del bellum iugurtini tornato a roma ricchissimo all'inizio del 44 fu accusato di peculato cioè di aver sfruttato la sua carica di governatore della provincia per arricchirsi indebitamente con malversazioni sfruttamento della popolazione atti illeciti e ancora una volta cesare è lì a salvarlo ma per poco il 15 marzo viene assassinato fine di cesare fine di sallustio o almeno del sallustio occupato nel negozium cioè nella vita pubblica e politica attiva risale infatti proprio a questo momento la scelta di ritirarsi dalla vita politica e dedicarsi all'ozium letterario in particolare alla storiografia tra pochissimo leggeremo proprio dalle sue parole il perché e passò così gli ultimi dieci anni della sua vita componendo le sue opere tra tivoli dove aveva acquistato la villa di cesare e la sua sontuosa residenza romana attorno alla quale aveva fatto progettare dei meravigliosi ed immensi giardini a nord est di roma i celebri orti sallustiani allora perché ritirarsi dalla vita pubblica e dedicarsi alla storiografia ce lo spiega lui stesso nei primi capitoli delle sue due monografie nei quali sente prima di tutto il bisogno di auto legittimare la sua scelta di vita tenete infatti presente che a roma nonostante la filosofia epicurea che andava fortissimo e le correnti poetiche neoteriche avessero già da tempo proclamato la legittimità dell'ozium rispetto al negozio era ancora troppo radicata l'idea tradizionale che dedicarsi alla scrittura non fosse un'attività dignitosa per il civis romanus ricostruiamo quindi le considerazioni di sallustio per legittimare la sua scelta congiura di catilina capitolo 1 gli uomini non sono stati creati veluti pecora que natura prona at que ventri obbedientia finksit dante avrebbe detto fatti non foste a viver come bruti perciò mi sembra più giusto cercare la gloria con la forza dell'ingegno che con quella delle membre capitolo 3 ma in così grande quantità di opere la natura mostra ad ognuno un diverso cammino quindi bisogna osare l'ingegno per nobilitare la natura umana ma ognuno ha il suo talento questo è il senso è bello giovare allo stato pulcrum est benefacere rei pubblici etiam benedicere aud absurdu mest ma anche saper parlare non è affatto male molti hanno ottenuto gloria operando molti narrando le imprese altrui e concludo con bellum iugurtinum 4 tra le varie attività che si esercitano con l'ingegno la più utile è di gran lunga la rievocazione degli avvenimenti passati memoria rerum gestati a sallustio però la politica piace congiura di catilina capitolo 3 fin da giovane adolescentulus come il più fui tratto da ambizione alla vita pubblica studio ad rem pubblica perché allora abbandonarla ivi incontrai molte avversità poiché invece della modestia della parsimonia del valore regnavano sfrontatezza prodigalità avidità e sentite cosa scrive in bellum iugurtinum 3 ai tempi nostri mi sembrano da evitare le cariche politiche i comandi militari insomma le attività al servizio dello stato dato che gli onori non vanno al merito impegnare se stessi senza costrutto lavorare per non procurarsi che inimicizie è insensatezza suprema e 21 secoli dopo non mi sembra che le cose siano tanto cambiate ma insomma finalmente questa crisi morale questa crisi di valori in cosa consiste avarizia attque luxuria superbia ambizio questi i grandi vizi potremmo dire danteschi che dominavano e occupavano la vita politica romana avarizia termine latino che non vuol dire avarizia ma cupidigia brama avidità di denaro che sfocia nella luxuria cioè nel lusso arrogante come dimenticare la raggelante frase che sallustrio mette in bocca ad un manipolo di nobili e generali romani che tentavano di sobbillare giugurta a impadronirsi del regno di numidia facendo fuori i fratelli rome omnia venalia esse tanto a roma è tutto in vendita con loro si può corrompere chiunque perché di vizie bono onestoque poziores erano superbia è tracotanza alterigia sicurezza della propria potenza intangibile sul piano dell'etica individuale si contrappone a termini come modestia moderatio pudor ma quando diventa l'atteggiamento di un politico è violazione dei diritti degli umili prepotenza è quel brutto vizio tipico dei pauci potentes l'arroganza del potere ambizio l'ambizione da noi idolatrato come sano valore positivo ha in tutti gli autori latini significato deteriore e in sallustrio è sempre accompagnato da aggettivi spregiativi mala ambizio prava ambizio è la cieca cupido honorum del dererum natura di lucrezia è una febbre di emergere di sovrastare fuor via gli uomini dal retto cammino induce a mentire a circuire ad adulare i potenti esmania di arrivare senza badare ai mezzi la traduzione più corretta del vocabolo latino ambizio è infatti l'italiano arrivismo ed eccoli gli arrivisti di sallustio giugurta mario catilina gente che dalla vita non ha avuto mai niente e che soffre di quel latente complesso di inferiorità sociale che li rende intriganti nel raggiungere il potere arroganti una volta che l'hanno conquistato ma non era sempre stato così sallustio interpreta il deterioramento del costume come il frutto di un processo graduale di cui individua un preciso momento iniziale la terza guerra punica la distruzione di cartagine del 146 con la conseguente presa di consapevolezza da parte di roma di una sua potenza imbattibile nel mediterraneo e di cui intravede anche un momento culminante la dittatura di silla in una siffatta visione della storia sallustio spinge quindi il suo sguardo indietro e mitizza il tempus actus il buon tempo antico e l'ideologia del mos maiorum l'ideologia insomma di un catone il vecchio ma anche di un cicerone non c'è bisogno di ricordare che la congiura di catilina fu il fiore all'occhiello del consolato di cicerone del 63 ed ecco la prima grande contraddizione di sallustio cesariano di ferro ma con il mito dell'anti cesariano per eccellenza cicerone e poi a proposito di avarizia e luxuria come accusare corrotti e corruttori dopo essersi indebitamente arricchiti con le malversazioni della propria amministrazione in africa no e infine un abile mossa quella di dipingere di nobili motivazioni la sua scelta di abbandonare la scena politica frutto in realtà di paura non del disgusto dell'uomo probo e valoroso che sallustio non era mai stato vissuto all'ombra di cesare senza di lui e nella roma feroce di quegli anni ci sarebbero state ottime possibilità di lasciarci le penne e allora piuttosto che perdere le proprie meglio prendere in mano quelle per scrivere e direi che ha fatto proprio bene le sue due monografie ancorché rivestite di quella patina moraleggiante è un po tragica sono due capolavori di alcuni personaggi storici in particolare di giugurta ci ha lasciato una caratterizzazione indimenticabile e se avete la fortuna di leggere il latino fluentemente quello di sallustio è bellissimo buon 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 buon